Abbiamo Colantuono, questa Atalanta che strabiglia, vince, mette in difficoltà grandi squadre. Domani che prestazione si aspetta da questa Atalanta? Domani penso che è una partita importantissima, sia per scalare la classifica, perché l'Atalanta classifica non sta bene, ma domani il Napoli è un grande avversario, io penso che Denis la deve mettere dentro, perché deve ritrovare il gol, perché l'ha trovato solo sul rigore. Ma mica si ripeteranno episodi come quello che successe contro la Roma, un carro armato in città, no? Quali sono episodi brutti? Ma sì, sono episodi brutti, io spero che nel calcio queste cose non succedono più, perché a me personalmente, io alleno l'Atalanta, ma un gruppo umile, un gruppo di ragazzi che crescono, che lavorano la mattina o la sera con tanto sudore, mettendo in allenamento tutto quello che c'hanno, perché loro sono ragazzi enormi, poi il risultato è certo, si strabigliano. Certe volte può essere avverso a noi, perché... Grazie. Vabbè, grazie, con questa intervista possiamo chiudere qui le interviste notturne degli allenatori, solo tre per me, è pubblicità. È pubblicità. Vabbè.